il vangelo di oggi ci interroga sul nostro modo di ricevere gesù nella nostra vita ogni giorno lo sappiamo accogliere in semplicità di cuore come il nostro amico più intimo magari lo consideriamo il nostro dio però nella pratica non sentiamo la sua vera presenza accanto a noi perché succede così perché non sempre consideriamo il fatto che dio ha nascosto il suo amore nel fratello le persone che ci stanno accanto con il loro amore ci parlano indirettamente di dio e noi sentiamo attraverso di loro l'amore che dio nutre per noi quindi sappiamo riconoscere gesù nelle persone che incontriamo nel nostro cammino chiediamo al signore il dono di poterlo riconoscere negli altri e di contemplarlo dentro di noi chi è gesù per te lo consideri il tuo amico più intimo sei tu a tua volta dono di dio per gli altri